In questa guida parleremo di un plugin di WordPress chiamato Smush che può servirci per alleggerire il nostro sito e quindi anche ottimizzarlo. Che cosa significa avere un sito più leggero? Avere delle pagine e degli articoli più leggeri andando a lavorare sulla pesantezza dell'immagine quindi è uno strumento di ottimizzazione fondamentalmente quindi più il nostro sito sarà leggero, più sarà veloce e quindi più dovremmo avere una performance migliore per quanto riguarda l'esperienza dell'utente all'interno del sito quindi user experience. In questo caso vediamo appunto il plugin già installato se invece dovete ancora, non sapete ancora magari come installare un plugin è molto semplice, basta andare nella pagina dei plugin all'interno della dashboard di WordPress e cliccare su add new quindi aggiungiamo un nuovo plugin e per quanto riguarda appunto quello che stiamo vedendo in questo video basta scrivere Smush nome un po' particolare ed eccolo qua come vedete questo fa parte anche di un set di strumenti che lavorano tutti quanti per il potenziamento del sito WordPress magari più avanti ne faremo anche altri e come vedete appunto sono in questo caso anche Amminbird fa parte dello stesso pacchetto Defender Security Smart Crawl Behive Analytics fanno tutti i parti ecco anche qui Branda insomma fanno tutti i parti dello stesso pacchetto questo non è un pacchetto totalmente gratuito ha diciamo delle funzioni professionali e delle funzioni meno professionali quindi alcune gratuite, alcune a pagamento andiamo a vedere appunto nel particolare Smush ovviamente installatelo cliccando su install now e poi attivatelo cliccando su activate una volta fatto questo troverete in basso nella dashboard il pulsantino per accedere e se non lo vedete basta fare un po' di scroll in basso ed eccolo qua quindi io posso accedere direttamente utilizzando questo pulsantino ok, come vedete qui ci dà innanzitutto la possibilità di provarlo gratuitamente per 30 giorni e in questo caso io sto facendo sto lavorando su Bulk Smush che è una funzione di questo plugin che mi permette di ottimizzare cioè di andare a individuare delle immagini che possono essere ottimizzate comprimerle e in questo modo risparmiare velocità e anche appunto pesantezza quindi nella versione gratuita io posso andare a fare una conversione di 50 immagini alla volta considerate che nel mio sito ci sono tantissime immagini sono quasi 5000 e quindi è un procedimento molto lungo nella versione free nella versione a pagamento invece posso convertire tutte quante le immagini in un solo click però quello che posso fare è semplicemente ogni volta aspettare vedete in questo caso sono arrivato quasi al 10% che succederà adesso sono all'8.7 probabilmente intorno al 10-11 si fermerà perché non posso farle tutte in una volta però dovrò ricliccare come avete visto sul pulsantino resume quindi anche la versione gratuita è totalmente funzionante ed utilizzabile e poi qui ho anche altri strumenti e impostazioni del plugin per esempio andiamo a vedere su lazy load anche questa è una funzione che riguarda le immagini e vedete che è già attiva quindi lazy loading è attivo e quindi questo che fa ferma le immagini diciamo nel caricamento della pagina a meno che il visitatore non raggiunge quella pagina facendo lo scroll cioè scorrendo la pagina in basso in questo modo la pagina si caricherà in modo più veloce e utilizzerà anche meno dati diciamo per per quanto riguarda lo scaricamento appunto dei megabyte e quindi consumerà anche meno dati del nostro utente diciamo così quindi è un ottimo strumento anche questo e appunto qui possiamo anche decidere dove applicare o meno questo meccanismo di lazy load cioè di chiamiamolo caricamento pigro se vogliamo ok dopodiché troviamo tantissime altre funzionalità e tantissimi altri strumenti e per esempio appunto possiamo utilizzare qui sui tools image resize detection quindi in questo caso io vado a switchiamolo diciamo accendiamolo ok in questo caso possiamo vedere se ci sono immagini troppo piccole o troppo grandi all'interno dei contenitori ok qui dobbiamo fare un update dei settaggi per salvare anche questa impostazione ok e dopodiché appunto abbiamo di nuovo altri settaggi qui aggiuntivi nella pagina settings quindi possiamo per esempio lavorare sulla traduzione possiamo lavorare sul contrasto aumentato per permettere alle persone di accedere persone con disabilità visive di accedere in modo più facile e molto alto insomma comunque per questa guida ci fermiamo qui potete andare a controllare ovviamente tutto quanto il manuale anche di questo plugin e tutte la parte informativa messa a disposizione dal team di sviluppo a questo punto ci fermiamo ricordatevi di iscrivervi al canale lasciate i vostri commenti che possono essere domande suggerimenti esperienze con questo tipo di strumento o strumenti simili e all'interno delle playlist troverete dei corsi professionali per quanto riguarda la grafica il web design il video editing e tantissimo altro all'interno dei video i nostri ultimi video pubblicati e ricordatevi di darci un supporto se potete con le pagine community attraverso i link che troverete su queste pagine community in particolar modo anche piccole donazioni con Paypal sono ben accette oppure anche tramite il negozio quindi per questa guida è veramente tutto e ci vediamo nella prossima guida in questo real quick video guide i voglio parlare to you about a plug-in for Wordpress which is called Bulk Smoosh oh actually it's called Smoosh and this is a plug-in that will help you to optimize your website and in particular it's going to affect your images it's going to as you can see here one of the first functions is to detect images that can be optimized and allow you to compress them in bulk now this is not the professional version this is the free version and I can use it to convert only 50 images at a time but for me it's okay I have a lot of images in my website which almost are 5000 but little by little I can convert them 50 by 50 now it's stopped it's in pause mode so if I click here I can resume and now it's going to convert I believe around 12% and then it's going to stop again and then I will have to hit resume again and so on I can also try the professional version absolutely for free for 30 days I guess or something like that but I can try to convert and bulk smoosh all the images at one time and also I have a discount apparently but I think I will stick with this free version I think it's already okay for me now if you want to install this plugin you don't know how to install a plugin just get into the plugin page and open it up and I will show you some other features here that you can find in this dashboard now you can search in the you can click here in the add new plugins in the plugin page and then you can search for this one it's called smush and press search and there it is so you can download it by clicking here you can install it download it and install it and activate it pretty easily pretty fast also this is part from a larger package of other plugins like hammerbird it's also for optimizing this is working basically in the code of your pages and also you have this one smart crawl you have defender security beehive analytics branda they are all part of bigger package and you can find it just by checking this development team here there you go so you can see all you need to see like the plugins and also manuals that you can find and other stuff here ok now let's get back to our plugin now this is the first feature I suggest you use another interesting tool it's lazy load and this is technically it's stopping pictures to be downloaded or shown until the visitor scrolls and gets into them so it's not going to download all the page in one session but it's going to upload it little by little so it's called lazy load and this way your page is going to appear faster and use also less bandwidth and also if you don't see all the page if you stop before and you don't scroll down to see all the page that's going to save also megabytes for the users and the ones that are going to visit the website so you can choose here whether to use the lazy load it's already active otherwise you have to activate it and you can choose which one you want to lazy load so usually the images are the heaviest part of your page and also other stuff here all right now also you have other options I'm not going to go through everything but you can check the documentation and you can help yourself by going through all these different settings I'm just showing you the best and the one that I like the most okay you can also go here in tools and I also activate this image resize detection which is a tool that will help you to highlight when images are too large or too small and that's gonna help you to fix this other issue and that's it then you have the settings here where you can set everything and also tutorials so you have anything you need to proceed by yourself and become an expert in this tool right here so if you enjoyed this video please subscribe leave your comments leave your questions and also suggestions for other users and check our pages in a channel like the store and the community page if you want to support us thanks for watching and see you in the next video